le gare di corsa gli animali della spiaggia bentornati siamo in riva al mare i concorrenti oggi sono cranchio paguro vongola stella marina e partarughina ai vostri posti rosso arancione verde via la vongola fa subito un tuff in avanti ma si è incastrata nella sabbia non può gareggiare così gli altri concorrenti proseguono la stella marina e la tartarughina sono in prima posizione mentre il paguro e il granchio sembra che stiano litigando paguro corri il granchio non ti ruberà la casa non ti preoccupare la tartarughina sta perdendo velocità la stella marina invece inizia a roteare è sempre più veloce è caduta e sembra che abbia un gran mal di testa il granchio ha raggiunto la tartarughina e adesso sono entrambi primi ma attenzione una sogliola che stava sotto la sabbia si è appena alzata e ha fatto volare in aria tutti i concorrenti adesso la situazione si è capovolta il paguro è primo la stella marina seconda il granchio è terzo insieme alla tartarughina una piccola onda ha investito il paguro che viene portato in avanti e vince a volte serve un po di fortuna ed ecco il podio terzi pari merito granchio e tartarughina seconda la stella marina ha recuperato all'ultimo e per primo il paguro siete stati tutti bravissimi paguro ha avuto anche fortuna ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao